Siamo da Tidio, con il mio grande amico, Endoni, Endoni, sì, devo andare a tagliare i capelli abbastanza corti, perché domani va tutto bene, non sarà con noi. Signor Attilio è girato, i capelli bellissimi, mi scavano. L'amico del fratello di Endoni, Francesco, era un bacio a quello pelato. L'imitazione del signor Macaluzzi. L'imitazione di Totò Macaluzzi. Guarda, questa il video mentre, oddio, ma è vero. Questa che non prendi a me, ci può fare tutti i posti. Ti levi? Eh, vai. Come vanno? Il giallo è bello in capito, non c'è un giallo di picciriggio, guardate il suo capito, non c'è cosa come l'acqua. Aspetta, sta facendo il video. Mi sento il tuo giusto. Ma te ne vai! Tu è la posta. Adesso potete notare con i capelli tagliati. Non mi fate vedere, non è cagato nulla. Come dovevo fare il cusario? Il cusario però sembra Simoncelli. Salutiamo Simoncelli, Cisaro. Ed ecco, ci ha messo il coso e ora ce li sta rovinando col cerchietto. Sì, vanno troppo assì. Vabbè.